E' amministia, carceri, giustizia, legalità, questi sono i temi, non è soltanto la liberazione dei detenuti in un modo o in un altro, è come punto finale restituire a questo paese la legalità che tutti sanno che non esiste e quando non esiste nelle sedi istituzionali non esiste neanche nella società, per cui è una battaglia giusta che va fatta per garantire a tutti di vivere un paese legale in cui la legalità sia elemento diffuso e cultura diffusa. Grazie. Grazie.